Benvenuti, cari followers! Un forte uragano colpirà fortemente l'Italia, con 48 ore di maltempo, pioggia, temporali e anche neve. Ma prima di entrare nei dettagli, spero che tutti voi ci sostegniate premendo il pulsante Mi piace per questo video per motivarci a continuare e fornirvi il meglio. Inoltre, condividi questo video con quante più persone possibile per trarne beneficio. Grazie! Quindi, a partire da domani, martedì 26 marzo 2024, comincerà a cadere la pioggia nelle regioni dell'Italia centrale e in diverse regioni del nord e del sud, e anche sull'isola di Sicilia e in Sardegna. La pioggia sarà accompagnata da forti precipitazioni. Temporali, poi a partire dalla mattina di mercoledì 27 marzo, le piogge aumenteranno con intensità al nord, e poi dopo mezzogiorno. Con molta probabilità l'Italia sarà esposta ad un forte uragano che provocherà piogge molto forti che cadranno su quasi tutte le regioni da nord a sud, e anche sulla Sicilia e sulla Sardegna. Le piogge saranno accompagnate da forti temporali con grandine e possibilità che si formino improvvisi allagamenti in alcune zone, soprattutto al nord e sulle coste del mar Tirreno. Urge quindi un divieto. Il maltempo proseguirà in Italia almeno fino a giovedì mattina, per cui nelle prossime 48 ore arriverà l'allerta rossa per tutte le regioni d'Italia, in particolare martedì e mercoledì. A partire dal pericolo di questo forte uragano, che porterà con sé, come ho detto, grandi quantità di pioggia con nevicate sulle montagne delle Alpi e nelle zone prealpine che superano i 900 metri di altitudine, C'è la possibilità di qualche nevicata rovesci incaduta in varie zone del centro Italia, e per ogni altra notizia importante riguardante questo forte uragano cerchieremo di comunicarvela più avanti e quando il periodo si avvicinerà di più.